Raga ma su internet non si può stare tranquilli un attimo che in una notte scoppia il dissing e il trash più totale Sto parlando della lite, chiamiamola così, tra Fedez e Luis Hall ragazzi In questi giorni, anzi durante questa notte che è appena passata per voi l'altra notte È successo di tutto online e la cosa bella è che ho visto il video che ha pubblicato Luis sul canale di Moschia Selvaggio Dopo tipo 10 minuti che l'aveva pubblicato, aveva tipo 20.000 views ancora Ad oggi ne ha tipo 1.000.000 e anzi forse tipo 2.000.000 in meno di 24 ore, una roba fuori di testa Ma cosa è successo ragazzi? In questi giorni, cioè nel senso nei giorni passati, Luis e Fedez hanno come si suol dire dalle mie parti spattato Cioè nel senso hanno un po' litigato, si sono allontanati Ecco io in questo video non voglio prendere né le difese di Fedez e tantomeno di Luis, non li conosco entrambi, non sono ambe vicini In questo video andrò semplicemente a ridere un attimino dei meme che si sono scatenati chiaramente nel web E come mio solito faccio sempre la reaction ai meme del momento in questa chiamiamola serie Ma i meme ragazzi sono partiti praticamente da questa notte perché Luis ha fatto una roba Una roba incredibile Vi faccio vedere, andiamo per step Tutto è partito sul canale di Moschia Selvaggio Fedez due giorni fa carica un video chiamato Che fino ha fatto Luis? Perché appunto nelle puntate precedenti Luis non era più presente Ok? Quattro mesi fa era stata l'ultima puntata forse insieme a Luis? Potrebbe essere perché è stato durante il periodo di Sanremo quindi Eh sì, giustamente nei commenti tutti dicevano Ah ma che fino ha fatto Luis, che fino ha fatto Luis, che fino ha fatto Luis E quindi Fedez decide di rispondere E racconta una serie di cose Adesso ripeto, io non so chi dice la verità tra i due E onestamente non mi interessa Però Fedez dice alcune cose Non offende in particolar modo Luis Ma lo fa in maniera velata Cioè nel senso gli lancia delle frecciatine E Luis ben 19 ore fa Quindi stanotte, circa mezzanotte Carica questo video Voglio dire asfalta Ma non è il termine corretto Perché ripeto, non voglio prendere le difese di nessuno Ma lancia delle battutine Un po' violente a Fedez Chiaramente sempre con la sua solita ironia Ironia raga, proprio che colpisce E che pazzesca Praticamente qui Luis racconta Il perché si è allontanato da Fedez Il perché si è allontanato da Moschio Selvaggio E una serie di cose E quindi arrivato a un certo punto di questo video Luis dice Dillo alla mamma Dillo all'avvocato Perché Fedez quando ha dei problemi Chiama sempre sua mamma E scaglia gli avvocati Che ci potrebbe anche stare Dico per difendersi nella persona Ci sono gli avvocati Usiamoli, no? Però il modo in cui l'ha detto Ha fatto scaturire tutti i meme sul web Luis ha detto questa cosa Non giochiamo più Dillo alla mamma Dillo all'avvocato Raga, quando ho visto sta cosa stanotte Ho detto questo domani È il trend del momento Questo domani è un meme Luis in questo momento Lo so cosa gli è passato per la testa Probabilmente è preso dalla rabbia È preso dall'ira Ha detto sta roba Raga mi ha fatto troppo ridere E mi continua a fare ridere Dillo alla mamma Dillo all'avvocato Se volete capirne di più Andatevi a guardare i video E quindi sul web sono nati un sacco di meme Che adesso andiamo a vedere Tra l'altro Piccolo fan fact La nonna di Fedez Nella prima stagione Della serie De Ferragnez Ho visto anche la seconda Bella serie Ci sta gradevole da vedere La nonna di Fedez Legge le carte a Fedez E la nonna gli dice Che presto litigherà Con un suo amico E Fedez dice no basta Bla 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 Poi Fedez chiede alla nonna E chi è? E la nonna risponde Luis E qua devi discutere Con un'altra persona Un uomo giovane E ti tradisci proprio Con il nome dell'affetto Per l'amico Che palle ancora? Io lo vedo già Perché io quando l'ho visto Ho pensato già Eh ho capito chi è allora Chi è? Luis lei dice Ah Cioè quindi la nonna raga Ha predetto il futuro Cioè le carte hanno funzionato Non si sa come Ma le carte hanno funzionato E quindi la nonna dice a Fedez Che non deve avere amici Non devi avere amici Cosa un po' triste Posso dire Però a questo punto è così Perché Fedez ha l'abilità Di litigare con chiunque Gli si avvicini Un saluto a Fedez Comunque ti siamo tutti vicini Ma partiamo con i meme Che è l'obiettivo di questo video Ovviamente il web Si è divertito A fare un po' di meme Qui siamo sulla pagina That's Fab official Non conoscevo questa pagina Me ne ha mandata la mia ragazza Con una serie di meme Ben dieci meme ci sono Dilla la mamma Dilla l'avvocato Ormai il loop E poi chiaramente è entrato Nelle nostre teste Nella mia testa Con il vestito Della Ferranghi Che ho scritto Dilla la mamma Dilla l'avvocato Quello che è esposto a Sanremo Che ce l'ha scritto Non mi ricordo Cosa ce l'ha scritto qua dietro Un qualcosa Sostegno delle donne Presuppongo Non mi ricordo Però penso di sì Questo è C'è l'audio Oddio Questo è Luis Salle Mentre carica il video sul canale All'insaputa di Fedez Perché Luis Avendo ancora l'accesso Da Game Musk Selvaggio Ha caricato quel video All'insaputa di Fedez Che poi Fedez Ha risposto nelle stories Dissando ulteriormente Un casino Un casino Però c'è Geni Morandi Che dà fuoco a qualcosa Se ipotizzate che questo sia Luis Ed è molto divertente Pensare questa cosa Un saluto anche a Geni Morandi Esatto Questo sono stato io Praticamente io stanotte E io che volevo andare A dormire presto E a l'una e quindici Luis praticamente Carica quel video E a l'una e mezza Fedez Mette le stories Dove risponde Al dissing Tipo raga Una telenovela Veramente Oddio Questa canzone a corridere Oddio Luis che corre A preparare un altro Powerpoint Dopo le sue ultime Storie di Fedez Perché nel video Dissing Risposta Luis ha usato Un powerpoint Per esporre La sua tesi No Ha fatto molto ridere Bellissimo Oddio che ridere Ma continuiamo Perché non finisce qui Il tutto Fedez Quando puntualmente Fonda una società Con il suo miglior amico Del momento Ci son cascato Di nuovo Perché prima era successo Con Jax Adesso con Jax Hanno fatto pace Adesso con Luis Sal C'è un problema di fondo Evidentemente In questa In queste società Luis Sal Mentre pubblicava Quel video sul canale Di Muschio Selvaggio All'insapota Di Montatore Permettere per favore Qui la faccia di Fedez E qui la faccia Di Luis Sal Sarebbe molto divertente Grazie Voi godete Dico tanta bellezza Ecco L'avvocato di Fedez Dopo il video Di Luis Sal I love my job I love my job Sembra l'inizio Di un p***o Non avevo intenzione Di dare il via A questo trattirino Nel quale Gli unici a divertirvi Sarete voi Questa è stata Una frase Di Fedez Detta se non sbaglio Nelle sue stories E noi puntualmente Eccoci qui Pronti a divertirci E tra l'altro Ci stiamo divertendo Fa ridere Cioè nel senso I dissing Sono sempre belli Cioè se li vivi In prima persona Un po' ti stundano Un po' ti Però ecco Assistere da spettatore Fa sempre molto ridere Il gossip è sempre stato Diciamo il pane Del web E della tv No? Io non ho visto Sti meme Quindi sto reagendo Con voi Lo studio legale Di Fedez In questo momento Mentre mi pare Le denunce Per Luis Sal Non ce lo faccio Ragazzi Sto morendo Ma che sta succedendo In questo momento Non si capisce Più niente Oggi è successo Veramente di tutto Ah esatto Perché raga Poi in questo periodo Sta succedendo di tutto Come dice il post Oltre alla nuova telenovela Con protagonista Damiano Damiano Dei Maneskin Che si è lasciato Si è baciato con un'altra L'hanno praticamente paparazzato Mentre si baciava con quest'altra Lui non lo voleva dire Una serie di cose Quindi è scoppiato pure Il boom Col povero Damiano Dei Maneskin E adesso è uscito anche Il mio risposto di Luis A Fedez Non si riesce a stare dietro A tutto ciò Ragazzi Veramente Un bordello Un casino Un casino Sta succedendo Un casino Pure Palo Bonolis Che ha annunciato Il divorzio Con la sua moglie Un primo periodo di giugno E' veramente erosio Di notizia Ecco Insomma Questi erano I dieci meme iniziali Ma ce ne sono altri Pov Stai copiando E quella Accanto a te Ti guarda male Di scuola net Si esatto Si È una cosa Che avrei potuto dire Benissimo io Hai già il 60 E ti presenti In costume in frita All'orale Tuoi commissari Di l'ho la mamma Di l'ho l'avvocato Vi stessimo in tema di esami Chiaramente Di maturità Compagni Stronzo Non ti sei presentato L'interrogazione programmata Io Dillo alla mamma Dillo all'avvocato Dillo alla preside Dillo ai professori Esco la net Ci gioca Ci sta Ci sta Ci sta È un meme Raga È un meme È un meme Ci sta È assolutamente un meme La comicità Partendo dal titolo Qui proprio Forse inizia una storia Eccomi qui Che fine ha fatto Luis I due video Uno di seguito all'altro Ma proseguiamo Luis nel suo video dice Già si parlava abbastanza di Fedez Questo non doveva essere un altro luogo Dove si parlasse di lui Ma Ahimè È successo È successo Luis Sal Una frase Distrutto Il povero Federico Lucia Mi dispiace per te Ma proseguiamo Luis Sal In 5 secondi e mezzo Ha smontato il video di Fedez Che in 15 minuti Ha fatto 1800 giri di parole diverse Insomma Insomma Dai forse Abbiamo capito Che non avevamo tutti torti A dire che Zedef Liticherebbe pure con un muto Che non può rispondere Mi distorcio assolutamente Da questa affermazione Signori della corte di Youtube Infatti io qui Non mi schiero da nessuna parte Non so chi dice la verità Non so se Fedez O Luis Sal Dicono la verità Fatto sta che insieme Non si capisce un cazzo E quindi Niente Non so chi dica la verità Fatemi sapere Secondo voi nei commenti Chi dice la verità Tra i due Andate via a corte di video Io non lo so Sono stunnato Ma continuiamo Riguardando il video di Fedez Che dice Avrei voluto ci fosse lui stesso A dare spiegazioni qui Soprattutto per rispetto Del lavoro di tre anni E del pubblico In tutta trasparenza e sincerità Luis Mi ha scritto Viene a chiedere scusa Con un testo concordato prima Sì per capire questo Dovete guardare il video Effettivamente Fedez voleva Che Luis Andasse a Moschio Selvaggio Con un testo concordato Scritto dagli avvocati E lui doveva ripetere Quel testo Frase e parola per parola Tipo il compitino Ma lui chiaramente Non ha secondato A questa roba Nel caso dovesse essere vera Perché ormai Non ci sto capendo Più una cippa di minchia Ecco Ma ragazzi Di meme Ce ne sono veramente Tantissimi Online Ma proprio Un'infinità Io sto Prendendo quelli Un po' più Recenti Un po' più memosi Anche Nasce e Crescere Spawna Un saluto agli amici Di Nasce e Crescere Spawna Qui andiamo un po' Nel nostro settore Nell'ambito gaming Nell'ambito nerd Ecco Quando sei in una streak di lose E l'amico ti chiede Di startarne un'altra Alle due Fedez non voglio giocare A questo giochino Non giochiamo più È una classica frase Che avrei potuto dire io Quando giocavo di notte Con i miei amici Adesso non succede più Peccato era bello Un bel periodo E quando mi dicevano Ah facciamo un'altra E non ho già le due notti Io no Non voglio giocare più Basta vado a dormire Ecco Più o meno il mood è quello Io su FIFA Dopo l'ennesima golle Della merda Contro mio cugino Di sette anni Dillo alla mamma Dillo all'avvocato Classica Comportamento da Giocatori medi di FIFA Ma proseguendo Io quando mi accusano Di aver rubato i diamanti Su Minecraft Questo poteva essere Tranquillamente io Su Pandora Quando streamavo Uguale Perfetto Identico Quindi signori Che dire Cioè se andassi adesso Su Google Meme Luis Salle Andassi su Immagini Probabilmente ne troverei altri Luis Salle risponde E attacca Fedez Con le slide su PowerPoint PowerPoint Stonks Asvolgono le azioni Di PowerPoint Comunque ragazzi Questi erano Alcuni meme Sulla lite Di Fedez Luis Salle Non si sa come andrà a finire Stiamo connessi Stiamo sintonizzati Io spero si concluda per il meglio Perché i due comunque Insieme mi facevano ridere Sono sincero Mi piacevano entrambi Mi piacciono entrambi E mi dispiace Che si sia generato Tutto questo continent Tutta questa shitstorm Nei confronti dei due È divertente Sicuramente assistere E vedere come andrà a finire Restiamo sintonizzati Restiamo connessi E vediamo nei prossimi giorni Come si evolverà la situazione Ciao 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 Ciao